Il 18 luglio entrerà in funzione su tutto il territorio italiano una carta solidale che ha lo scopo di sostenere le famiglie che hanno un'isè inferiore ai 15.000 euro, un bonus per quei soggetti in difficoltà contro l'inflazione e il caro prezzi che ha inciso sul potere d'acquisto. La carta è stata chiamata dedicata a te. Questa infatti non deve essere richiesta dagli interessati, ma è la stessa IMSS in collaborazione con il Comune che ha individuato le famiglie bisognose, quelle quindi che rientreranno tra una settimana negli eventi diritto. L'unica cosa richiesta ai cittadini è di attendere la comunicazione sul proprio sito, invitandoli a ritirare la carta presso un qualsiasi ufficio postale e di fare il primo acquisto entro il 15 settembre, altrimenti il beneficio rischia di essere revocato. Il contributo è di 328,50 euro su base annuale, il quale serve ad acquistare prodotti alimentari di prima necessità e alimenti per l'infanzia presso quei rivenditori che hanno aderito alla Convenzione. I beni sono stati elencati in un allegato del decreto interministeriale definito dal Dicastero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare insieme a quello dell'economia. I nuclei familiari che beneficeranno di questa carta elettronica, oltre ad avere un reddito inferiore ai 15.000 euro, dovranno essere tre componenti con o senza minore. Inoltre sono esclusi dall'elenco coloro che ricevono il reddito di cittadinanza o qualsiasi altro strumento di contrasto alla povertà. Le carte saranno distribuite nei comuni con un bilancio del 50% in base alla popolazione e con un 50% in base invece alla distanza tra il reddito pro capite nel comune e quello nazionale. In sintesi, le località più povere avranno più carte.